oh si la 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 luce vai nuova faccia la tigre l'uomo 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 ahahah lei va più veloce della cosa c'è anche la luce e tu ci fanno su youtube c'è anche la luce bravo 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 no no, questo non va a caso come c'è anche la luce non ce la colposte vai vai, lu, va inhabited due nei due vediamo a